Ciao, sono Austin Dunque, ho 20 anni, gioco in una squadra che si chiama Topasport. I miei passioni da sportivo sono calcio e basket. Adesso vi presento tutti i miei compagni che ho conosciuto e che giochi insieme. Facciamo tante esperienze insieme. Noi abbiamo un sogno, conoscere tutti i giocatori, tutti gli allenatori che vogliamo conoscerli. E vogliamo invitarvi a giocare con noi. E per questo io mi sfido. Aggettate la mia sfida nel cuore. Ciao Austin, ho voglia di accettare la tua sfida e prendo questo spunto per rientrare nel grande calcio. Quindi accetto la tua sfida del cuore.